Pasqua e iniziative sociali, l'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara, presieduto da Milena Siracusa, dona Agnelli e Uova Pasquali alla Mensa della Solidarietà di Agrigento in Evia Gioeni, gestita dalla comunità Porta Aperta di Suor Maria Grazia Pelliteri. Grazie per il piacere di fare dono di quello che prepariamo all'interno dei laboratori della scuola, anche a chi ha più bisogno. Stradafacendo abbiamo poi preparato delle uova di cioccolato e degli annellini di Pasqua, il tipico dolce pasquale favarese, che abbiamo pensato di devolvere proprio alle associazioni come la Mensa della Solidarietà, ma ci siamo anche occupati di chi è più bisognoso anche nel paese di Favara dove è la scuola. Quindi siamo stati alla San Vincenzo de Paoli, all'Associazione Anfas, all'Associazione Avodic e in una casa di riposo per anziani, proprio per prenderci cura dei più piccoli, dei giovani, delle famiglie, degli anziani. Siamo anche andati oltre, nel senso che alcuni docenti che nella veste di volontari della Mensa della Solidarietà, nella veste di cittadini che sanno anche vivere e testimoniare il valore della generosità, sono venuti qui stamattina in una giornata di sospensione delle attività didattiche ad aiutare i volontari di questa struttura nella preparazione dei cibi per gli assistiti che oggi saranno seduti alla Mensa della Solidarietà. Questo perché il nostro più grande impegno è quello sì di preparare dei professionisti della ristorazione, ma la scuola non può non occuparsi di far crescere una società migliore, una società capace di prendersi cura degli altri, di fermarsi anche durante il momento della Pasqua a riflettere e a cercare di far dono di quello che sa dare. Noi tecnicamente abbiamo elaborato quelle che sono le uova di Pasqua, e il progetto è andato parallelo con l'agnello Pasquale, come diceva la presa, abbiamo poi distribuito alle varie associazioni e oggi siamo qui per completare il lavoro svolto. I ragazzi sono stati molto contenti, sia nella fase di preparazione che di allestimento del nostro pulmino della solidarietà. Qui abbiamo una piccola rappresentanza, oggi è già vacanza a scuola, quindi i ragazzi hanno proprio sacrificato tra virgolette uno dei loro giorni libri, l'hanno fatto con piacere. Noi cerchiamo di trasmettere il valore che il volontariato non è mai fino a se stesso, perché in realtà diamo poco ma riceviamo tanto. Queste sono opere d'arte bellissime, li potete anche vedere il tocco della dolcezza, dell'amore, che proprio si fa solidarietà, quindi non è per loro un lavoro semplicemente, ma è un lavoro che si espande come questo cioccolato, ecco che si dona, anche quest'alberghiero oggi ci ha fatto questa bella sorpresa, che non è dentro l'uovo ma fuori questa volta. E' importante questo, noi prima di tutto vediamo il volto di Dio nel volto del fratello, e quando manda Dio al fratello è per fare famiglia. Questo clima proprio di bellezza, di accoglienza, benvenuto ti stavamo aspettando, è quello che ci portiamo nel cuore e che vogliamo comunicare, con l'aiuto di tutti. Questi ragazzi sono gli scout di Racalmuto, come tu dicevi, e che ci vengono a trovare anche qualche altra volta durante l'anno.